Una schiarita maltempo stesso ancora tempo incerto per usare termini meteorologici particolarmente d'attualità alla luce del maltempo di questi giorni sulla CSTP e sui suoi dipendenti. Da un lato le voci di nuovi possibili esuberi, dall'altro la conferma del bonifico arrivato questa mattina da parte della Regione Campania per i corrispettivi di luglio ed agosto. Una notizia attesa dai sindacati e dai lavoratori per sbloccare il pagamento degli stipendi con tre mensilità arretrate. Finalmente stamattina abbiamo saputo che la Regione ha sbloccato i corrispettivi di esercizio di luglio ed agosto e lo ha fatto dopo un incessante pressing da parte delle organizzazioni sindacali e anche grazie all'impegno che ha profuso rispetto a questa materia la Prefettura di Salerno. Per cui la notizia sicuramente comporterà il pagamento dello stipendio ai lavoratori del CSTP. Noi auspichiamo che vengano pagati tutti gli stipendi arretrati che voglio ricordare sono tre. Quindi aspettiamo l'ordine di servizio da parte dell'azienda con il quale si metterà in pagamento la retribuzione ai lavoratori. Il futuro però resta incerto. Ieri incontro tra la Commissione dei liquidatori del Consorzio e di rappresentanti di Comune e Provincia di Salerno per fare il punto della situazione in vista della definizione del piano industriale che dovrà essere presentato ai sindacati prima dell'Assemblea dei Soci convocata in prima battuta per il 13 novembre. Un piano che dovrebbe puntare ad un ulteriore contenimento dei costi anche grazie ad un nuovo taglio della forza lavoro si parla di 90 esuberi. Circolano indiscrezioni, su questo vogliamo essere chiari. Noi non accetteremo nessun piano industriale che preveda licenziamenti. Siamo disponibili a ragionare, c'è grossa apertura per salvare il CSTP ma per quanto ci riguarda il piano industriale non può prevedere nella maniera più assoluta i licenziamenti. Noi puntiamo alla salvaguardia di tutti i livelli occupazionali e puntiamo a mettere in campo anche dei grossi sacrifici. Però nessuno deve perdere il posto di lavoro.